Ciao sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere l'add-on per WooCommerce AJAXI Infinite Scrum Se non hai mai sentito parlare di WooCommerce, WooCommerce è il più popolare plugin per Wordpress per trasformare Wordpress in un vero e proprio e-commerce. In questa serie di video che puoi trovare suggeriti qua sopra e presenti sul mio canale stiamo andando un pochettino a vedere quelli che sono gli add-on che consentono di incrementare le funzionalità di WooCommerce oppure di andare a creare automazioni e strumenti nuovi per poter aumentare le vendite e quindi innalzare quello che è il fatturato del nostro e-commerce. Nel video di oggi andiamo a vedere quello che è l'add-on AJAXI Infinite Scroll. È un add-on che cura un pochettino di più l'esperienza utente ma che reputo sia comunque davvero interessante. Non perdiamo però adesso altro tempo e andiamo a vedere questo add-on. Questo add-on ha un costo di 49 dollari annui e come abbiamo detto per tutti gli altri add-on che abbiamo visto finora su WooCommerce il costo appunto è annuale e nel primo anno sono compresi gli aggiornamenti ed il supporto. Questo abbonamento lo possiamo dire in ogni momento. Naturalmente al termine del nostro primo anno di abbonamento quindi a decorrere dall'anno dalla data in cui abbiamo sottoscritto l'abbonamento smetteremo di ricevere aggiornamenti e supporto. Andiamo un pochettino a vedere come funziona e come lavora questo add-on che è piuttosto semplice ma molto utile per aumentare appunto l'esperienza utente. Possiamo naturalmente migliorare quindi e velocizzare con questo add-on quella che è la navigazione dei nostri prodotti del nostro e-commerce grazie a questo appunto add-on. Infatti Ajax Infinite Scroll ha tre diversi differenti metodi di scroll della pagina che può appunto aumentare quella che è l'esperienza utente per quanto riguarda il catalogo quindi la shop page o la pagina d'archivio del nostro WooCommerce. Infatti va a sostituire quello che è il pagination di default di WooCommerce dei prodotti con questo infinite scroll con il tasto carica ancora o con il pagination ma in Ajax andremo a vedere tra poco come funziona. Naturalmente a seconda di quello che decidiamo noi. Quindi grazie a questa estensione i nostri utenti non hanno più necessità di andare a ricaricare la pagina oppure andare a navigare pagina per pagina i prodotti del nostro catalogo. Andiamo a vedere come funziona, come sono le future. Abbiamo tre differenti metodi appunto di scroll che sono l'Ajax Infinite Scroll, l'Ajax Based Pagination e l'Ajax Based Load More Button. Possiamo naturalmente personalizzare l'icona di caricamento quindi per far capire che i prodotti si stanno caricando sotto. Possiamo andare a personalizzare il bottone nel testo con scritto caricamento altri prodotti, il background e il colore del testo di questo bottone e possiamo decidere di spegnere, cioè di non utilizzare questo scroll nei mobile in modo da non appesantire troppo quella che è magari la navigazione lato mobile ma lasciarla comunque visibile con il pagination classico. Andiamo a vedere il product scroll. Il product scroll va a caricare e aggiungere i nostri prodotti con il caricamento con la sferetta come possiamo vedere in questa gift animata. Quindi arrivati in fondo ai prodotti appare una sferetta che carica che fa capire che stiamo caricando altri prodotti. Naturalmente questo scroll funziona con lo scroll down della pagina quindi quando con il nostro mouse scrolliamo verso il basso e utilizza il pagination setting che stiamo utilizzando in Wordpress. Quindi può caricare 8 10 prodotti alla volta ogni volta che scrolliamo verso il basso quindi con questo caricamento a seconda di quello che è il nostro pagination settings. Andiamo a vedere invece il load more button. Il load more button fondamentalmente quando arriviamo in fondo alla pagina abbiamo questo bottone carica ancora che ci consente di cliccando di caricare altri prodotti nota bene senza ricaricare la pagina. Quindi come dicevamo prima. Quindi a differenza del precedente che abbiamo una gif di caricamento quindi un'immagine di caricamento qui possiamo caricare invece un bottone che dice carica altri prodotti che è a discrezione naturalmente dell'utente cliccare o meno. Quindi se l'utente andrà a cliccare andrà a caricare gli altri prodotti. Anche qui come ho già detto nota bene non verrà comunque rifresciata la pagina. Possiamo modificare questo bottone come abbiamo già detto prima. Quindi possiamo modificarne testo, colore del bottone del background e colore del testo per diciamo renderlo organico con quello che è il nostro e-commerce. Andiamo a vedere l'ultima tipologia che è l'Ajax pagination. Cioè l'Ajax pagination ci permette di tenere pagination che abbiamo di e-commerce ma il caricamento dei prodotti come vedi avviene senza che la pagina venga ricaricata ma bensì in Ajax. Quindi viene effettuato in real time senza che l'utente debba vedere rifresciare la propria pagina. Questo è molto bello anche questo per quanto riguarda l'esperienza utente sul nostro e-commerce. Il requisito tecnico per questo add-on è che ci sia PHP in versione minimo 5.2 e direi che abbiamo visto quelli che sono i tre esempi di caricamento dei prodotti nel nostro catalogo. È un add-on molto interessante per l'esperienza utente e come abbiamo già visto in altri video che sono presenti qua sul mio canale, migliorare l'esperienza utente significa anche migliorare le nostre conversioni e i nostri guadagni. Direi che per quanto riguarda l'add-on infinite scroll per oggi è tutto. Bene, io spero tu abbia trovato utile questo video. In ogni caso comunque lasciami iscritto qua sotto nei commenti se hai qualche dubbio, hai qualche perplessità, c'è qualcosa che non hai capito o se c'è qualche approfondimento che magari non hai trovato presente ancora nel mio canale di modo tale che posso aiutarti per quanto possibile oppure trovare qualche nuovo spunto qualche nuova idea per appunto qualche nuovo video di informazione che magari ancora non ho trattato nel mio canale. In ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!